Beh, ora che siete al verde, che cosa farete? Sono disposto a tutto. Potrei anche togliervi il posto. Ci hanno provato in parecchi. Sto cercando un vice-sceriffo. Dieci dollari al giorno in oro. Non ci tengo a lavorare per voi, signor Gellon. Come volete. Venite da me quando avrete fame. Scusatemi, ma non credo che soffriremo la fame. Ci spingeremo fino al condaic e ci metteremo a scavare. E quando partirete? Beh, pensavamo di metterci in marcia domani mattina, sempre che ci lasciano i nostri cavalli. Però l'autorità non interessano i cavalli, ma gli attrezzi e i viveri, li avete? Quanti soldi sono rimasti? Una cinquantina di dollari. Compreremo farina, sale, caffè, un badile, una padella e per la carne si va a caccia. Non basta. Questo è un problema che riguarda noi. Non riguarda invece solo voi, per via del confine. Quale confine? È quello canadese. Occorrono cento libri di viveri per marcarlo. Venite, vi farò vedere un...